Sono io il tortellone nazionale I compagni di classe ragazzi l'importante è che condividete Ovviamente tag di GDR TGR sorry mi sono emozionato E ovviamente dovete lasciare Il like perchè senza il like Non ve l'ho detto almeno 4 ragazzi I primi 4 mettono like sono i bomber Detto questo ragazzi andremo a ettarlo proprio con lui Col micione che avevamo appena trovato Nello scorso chest opening ovviamente L'ho un po' aumentato ragazzi sia di livello Sia di grado per chi non mi dovesse Seguire sul canale violace Vi lascio tutti qui sotto i link in descrizione Mi raccomando vado live todo il giorno Tutti i giorni mi raccomando Detto questo vi faccio vedere un attimo la situazione generale 22 casse qua Ci abbiamo 8 casse questa qui ragazzi La casse dei platino la terremo veramente come un oracolo E andremo a prendere proprio questa cassa Ovviamente spero che Ho lasciato proprio una partita A meno 4 coppe e Niente ragazzoni ci buttiamo nella mischia Sperando Sperando bene sperando bene Io non posso fare altro ragazzi che sperare e soprattutto giocare Ovviamente spero anche di incontrare Nella lobby qualche TGR Capito che sta a scuola e sta un po' Snerdando a Smash Se ancora zio tu che stai guardando il video Non hai scaricato Smash Legend Stai nel passato Stai già nel passato Cioè è nuovo ma già stai nel passato Ve lo dico Mi raccomando ragazzi concentrati Partita abbastanza seria Come ben sapete ragazzi 4.000 coppe Insomma stiamo parlando di top italiana Quindi insomma Scontri abbastanza Tostarelli Ok Tostarelli per tortello Cerchiamo di prenderci ragazzi Più power up possibili Ovviamente io mi emoziono Quando sculicchio Il doppio O addirittura Triplo power up Di caramelle Però non è questo il caso Infatti immaginavo Ehi 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 Qui 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 Una situazione bruttissima Per fortuna Io ragazzi Prendo caramelle Prendo caramelle Uh doppio power up Ragazzi mi piace un botto Poi vado qui Nella zona sottostante Per vedere Uh vabbè La ciambella ragazzi La ciambella quando la trovi Ma quanto è buona Ma quanto è bella Ma quando è tonta Con il buco Vai Vai ragazzi Sto veramente euforico Riga per questi 4 cappini Sto veramente Veramente euforico Ovviamente 7 sopravvissuti Qui dobbiamo un attimo Fare qualcosa Io ragazzi Col gatto Non mi ci trovo Propriamente bene Però ovviamente Era a livello più basso E boom Così Facciamo una piccola hit No me ne vado Penso Penso che qui Il top sarebbe Ecco Killare lupo rugaizer Dice si anche Lupo rugaizer Ragazzi No Eh vabbè ragazzi Che fai Non te pina Popcornata in the face Cioè se non te pina Popcorn in the face Non sei nessuno Dai oh Guarda dove sto Se mi viene qua Una red Mi sbudella male Uh Settimo Ragazzi Perché non mi hai aiutato Da chi la Dai bravo 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 Che si dà Da chi la Quello Dai Dai Ragazzi Scontro abbastanza Tosto Questo Si Lo vado a hittare Bellissimo Bellissimo Regà Bellissimo Queste sono mie Queste sono mie Ragazzi Attenzione Se la giochiamo bene È tutto il nostro Tutto il nostro Dobbiamo hittare Prima lui No mi vado a prendere la vita Mi vado a prendere la vita Lascio un po' il fighting Mi sposto di qua No mi serve Appare scinde Che mi serve Uh Dai 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 No Peccato ragazzi Terza posizione Ma l'abbiamo hittato Regà L'abbiamo hittato Volevo portare una prima Eh Però ragazzi Peter Peter è troppo Troppo So strong È veramente Atomico Vai Eccolo qua ragazzi Con un bel livello 3 Grado 5 Ci andiamo a hittare Le nostre 4k Mamma mia Quanto sono pesanti Queste 4k Quanto sono pesanti No no Ma come mi cerca un altro Ma che è successo qui No Si è buggato ragazzi One moment One moment One moment Eh si Cioè tanto bene Vado a fare il video Che fa si bugga Ovviamente Mamma mia Raga Io non mi sto sentendo Mario Mi sto sentendo Mario Smesci Non fa che me l'ha contata La partita Perché se non me l'ha contata Impazzisco completamente Vado fuori Di Melones E invece me l'ha contato 4.500 Coppe Ragazzi Eccole qua Bellissime Poi vabbè Non so se state a vedere Quelle 23 casse Ragazzi Lì Sto preparato per Cesto opening Nuovo champ Vabbè Ne robe Robbe ragazzi Mi dovete continuare a seguire Perché Stiamo nel clou Della situazione Io ragazzi Non mi sono bruciato Nessun contenuto Regà Guardate i contenuti Eccoli qua Stanno tutti qua Forse penso che Sono l'unico Che ancora C'ha la cassa platico Unica cassa platico Regà Questa cassa è rarissima E sicuramente Conterrà qualche leggende Ve lo dico proprio A mani basse Quindi Banda le ciance Ragazzi Ah però Prima di andare a aprire Vi voglio far vedere Questa delle 4.000 È potentissima Vi voglio far vedere Ragazzi Nel negozio Ah allora Qui subito consiglio utile Se avete oro Da spendere Da buttare Ragazzi Che alla fine Non è buttato Ma è sempre investito Comprate energie Regà Perché qua Vi da tante tante energie Buonissime C'hai capito Queste qui ragazzi Sono obbligatorie da prendere Perché altrimenti Non Cioè È difficile È difficile proseguire Quindi voi Comprate energie Almeno vi avvicinate Quando aprite le casse Ragazzi Rimaxate livello 8 Dal livello 8 in poi Potete trovare Le star power Ok I poteri I poteri Ovviamente Quella gem Ragazzi Non li compro Perché ho altri Piani in mente Però quello Che vi volevo far vedere Ragazzi Era questo qua Le percentuali Di Di trovare Insomma Lupo Aruravi Da Gheccinio È il momento Clu del video Che è proprio Questo Mamma mia Ragazzi Quanto è pesante Mamma mia La vado a aprire Ragazzi Vi prego Lasciate il like Ragazzi Mi sento male Se lo trovo Ragazzi Se trovo qualcosa Sulla cassa delle 4k Potrei impazzire Si tocca Mamma mia Niente Niente ragazzi Forse Secondo tocco Malissimo 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 Ragazzi Peccato Pensavo che era un po' Più succulenta Questa cassa delle 4k Comunque Io spero che il video Vi sia piaciuto Spero che lasciate il like Spero che lo condividerete Spero ovviamente Di vedervi in live Io già sto preparando Ragazzi Praticamente è pronto Un mega chest opening Il pass Ragazzi Devo dire abbastanza bene Mi posso sbloccare anche qui Le moci Della scopetta Che pulisce E niente ragazzi Sto abbastanza bene Domani No Penso più tardi In live Andrò a sbloccare anche Questa qui ragazzi Questa qui È la seconda cassa Più prolifica Ok Più proficua Del gioco Ok Quindi è una cassa Abbastanza importante Che può aumentare Tanto le percentuali Detto questo Spero che vi siate divertiti Vi mando Un bacione Un salutone Un abbraccione Al vostro torte di lunedì fiducia Vi ricordo A cada puff Come sempre Stiamo carichi E Sorriso sgargiante Ciao a tutti ragazzoni Vi aspetto live Lo sapete Sempre Tutto il giorno Fly Ciao Ciao ciao